La caccia aperta in tutta Europa ha 386 auto e moto sequestrate per ordine del Tribunale di Milano in seguito agli accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia su alcuni reati contro anziani compiuti nella città metropolitana da diverse bande di Rom. Sono gruppi criminali itineranti che spaziano purtroppo in tutto il territorio nazionale, prevalentemente abbiamo visto noi anche qui negli ultimi giorni nella provincia di Venezia, ma sono rapidi e dinamici nei loro spostamenti. Oggi sono qui in Veneto, domani in Lombardia e dopo domani in Emilia Romagna. Tutti i veicoli per i quali è scattata l'ordinanza di sequestro erano intestati alla stessa persona, un pregiudicato ventotenne siciliano denunciato per falso ideologico. In cambio di poche decine di euro sbrigava tutte le pratiche per la proprietà in diverse agenzie di Milano, consentendo a varie bande di delinquenti di avere a disposizione auto sicure per commettere i loro crimini. Alcune di queste auto vetture, oltre che per commettere reati di furti e rapine, sono state anche utilizzate per lo spaccio di sostripefacenti ad opera di nordafricani. Quindi è un'indagine che si allarga a più filoni. Decine di sequestri sono già stati eseguiti in una dozzina di province del nord Italia e non solo. Abbiamo inserito queste auto vetture sia sulla banca dati disponibile alle forze di polizia in Italia, ma soprattutto disponibili proprio in tutta Europa. È una banca dati che si avvale della collaborazione Schengen, una banca dati che ha già consentito al momento di sequestrare già 25 auto vetture in diversi stati d'Europa, Francia, Spagna, Germania, Austria. L'obiettivo dell'azione, spiegano i carabinieri, è colpire un gran numero di gruppi criminali, privandoli dei mezzi necessari ai loro spostamenti in totale anonimato in Italia e in Europa.